Grazie per questa settimana, benvenuti all'ascolto di Scorribande, come sempre la voce di Saverio Masetti che vi accoglie nel salotto di Shortwave Radio, nella trasmissione in lingua italiana, che settimanalmente vi informa sul DX, sul radioascolto, sulle notizie per i radiomatori, ma anche tante altre curiosità. Intanto in apertura di trasmissione vi ricordo che alcuni nostri orari di trasmissione sono variati, vi invito quindi a visitare il nostro sito www.scorribande.net per tutte le informazioni aggiornate, la nostra trasmissione come sempre va in onda sulle frequenze di 3975 e 6170 kHz, corrispondenti appunto a Shortwave Radio. Iniziamo quindi come sempre con la voce di Magno Candelli e Panorama Ode Corte in collaborazione con DXPanzin.com, proseguiremo con le notizie per i radiomatori, presentate da Gabriele India, Zulu 3 Golf, Oscar Mike e dal suo collaboratore di espressione Emanuele. Ma subito dopo troveremo di nuovo Magno Candelli con una trasmissione speciale andata in onda nel febbraio del 2018 su IDS Italian Broadcasting Corporation in occasione del World Video Day di quell'anno. Si parlava di sport ed è per questo che noi la rimettiamo in onda perché molti di voi stanno aspettando che le manifestazioni sportive riaprano i battenti dal calcio a tutti gli altri sport e nel 2018 è stato proprio lo sport l'argomento del World Radio Day che come sempre sapete si celebra in febbraio. Chiuderà la nostra trasmissione Roberto Scaglione con Media in Tech. A tutti buona ricestione! Panorama Ode Corte Panorama Ode Corte Panorama Dix di notizia, tecnica e fatti radio perché ascolta il mondo e le servono sulle Ande Corte. Panorama Dix di notizia, tecnica e fatti radio perché ascolta il mondo e le servono sulle sequenze da 0 a 30 MHz diffuso all'interno di Scorribande. Il programma in italiano di Shortwave Radio che trasmette dalla Germania su 3.975 e 6.160 KHz. Vi guardiamo che i rapporti di riflessione corretti saranno confermati con QS e l'elettronica. Il nostro indirizzo è Scorribande. Nel corso dell'odierna edizione di Panorama Ode Corte vi presenteremo una selezione di ascolti in onde medie e corte effettuati da vari appassionati italiani dal 2 al 17 maggio 2020. E vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati in questo programma sono espressi in GMT UTC ovvero 2 ore in meno rispetto all'ora legale attualmente in vigore in Italia. E iniziamo con Radio Nazionale de Spagna, Radio 1 dal centro trasmittente di Valencia su 774 KHz il 14 maggio alle 18.25 in lingua spagnola quando andava in onda il notiziario regionale della comunità valenziana qualità della riflessione buona.